Si è messa in moto la macchina organizzativa della BAT per dare accoglienza ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Un primo passo è stato fatto con la riunione convocata in videoconferenza dal prefetto Maurizio Valiante per discutere con sindaci, rappresentanti della ASLA e dell'ufficio scolastico regionale dell'assetto organizzativo territoriale da adottare per far fronte all'emergenza che sta colpendo la popolazione ucraina. L'incontro ha fatto seguito ad una precedente riunione preseduta dal governatore Emiliano nel corso della quale è emersa la necessità di istituire una cabina di regia composta da rappresentanti regionali, prefetture, province, comuni e forze dell'ordine che si dovrà occupare dei diversi aspetti connessi all'arrivo degli ucraini in fuga dalle bombe. Su tutte le procedure di registrazione, le attività di screening sanitario e l'individuazione delle strutture che dovranno ospitare i profughi e in questo senso la provincia Bat si è già mobilitata per la gestione dell'accoglienza. Noi ci siamo immediatamente attivati per cercare soluzioni alloggiative ulteriori rispetto alle attuali capacità ricettive dei canali istituzionali, mi riferisco ai nostri centri di accoglienza straordinaria che in considerazione dell'eseguità dei posti necessita necessariamente ovviamente di un ampliamento dell'accoglienza. Per cui abbiamo anche sensibilizzato i comuni per definire accordi di collaborazione, per individuare delle soluzioni di accoglienza piena, quindi evitato alloggio e tutti i servizi necessari con fondi a carico del nostro Ministero dell'Interno. Abbiamo anche definito un assetto organizzativo provinciale con il coinvolgimento dei responsabili quindi dell'ASL, delle scuole, delle forze di polizia e tutti i sindaci per individuare, per intercettare presenze di cittadini ucraini che si stanno avvicinando nelle nostre zone indipendentemente dal canale istituzionale.